Hai ragione, magari in questo momento qua se prendi gol, stai facendo bene, la morale ti mette un po' giù, ma non può essere questo atteggiamento, ma non penso che oggi sia stato quello, è stato più che domenici più concreti, più efficaci, dobbiamo mettere più cattiveria. Sì, non c'è niente, non ci pingiamo addosso, c'è da camminare, c'è da tuffarsi, c'è di tutto, ancora a lungo il campionato, noi non vogliamo un cazzo. Sei sempre stato autocritico, Cataldi vi porta ad essere autocritici? Sull'episodio di Cipissà avresti potuto fare qualcosa di più, secondo te, David? Ti sei buttato magari troppo lento, non lo so, come l'hai rivista, come mentalmente ripensi al gol preso? Mi sembra che la palla sia girata al giro dalla mia mano, io mi sono buttato, l'angolata bene, ma la devo, cosa rivedo, non te lo so dire adesso, per me stavo bene in posizione, lui ha calciato al fianco di me dalla mano, è entrato, non lo so, devo riguardare, ma... Comunque era pronto il tiro, troppo libero. No, se ce la prendo la spagnola, la prendo io, non c'è problema.